Noi rispettiamo il pensiero del Presidente eletta, sicuramente lo faranno i Ministri, certo il PDL non smetterà di fare politica, non farà alcun passo indietro rispetto alla difesa sacrosanta del Presidente Berlusconi e rispetto anche a quelle che sono le nostre posizioni politiche, ovvero l'urgenza di una riforma della giustizia che ristabilisca i diritti della difesa, i principi del giusto processo che vada verso la riforma delle intercettazioni per garantirne un uso legittimo e tutto questo ricordo che è contenuto nel documento dei saggi e quindi non rappresenta una proposta eversiva ma un qualcosa che anche in quel documento viene tenuto presente a significare che il tema giustizia in Italia esiste ed è un tema da affrontare, certo dopo le questioni economiche. Noi appoggiamo il Governo Letta perché riteniamo che oggi la crisi economica sia la vera emergenza e crediamo che sia più facile su queste questioni economiche, penso all'IMU, penso alla riduzione del costo del lavoro, penso alla soluzione dei giovani, trovare una soluzione condivisa. Vediamo più ostacoli sul tema della giustizia ma non si può cancellare il tema giustizia dall'agenda politica.